Sanacev l'uno contro uno lo scarico per la compagna il tiro da tre punti e primi tre punti sempre Milazzo a concludere l'azione l'errore però della numero quattro e allora Serbia che può ripartire in contropiede lo fa con Vuccovic buona buona la giocattiva e allora un putteggio che non cambia e Serbia che si porta in attacco buona in attacco lasciata sola però Vuccovic in area che si gioca punto a punto qui al pala indoor e ora è stag e Vuccovic con iniziativa personale ad andare a segnare